Ted, dal momento che non riavremo la cauzione, pensavo che magari potresti rimborsarmi la mia meta. Un momento, perché dovrei pagare più di te? Perché hai trattato questo appartamento come John Bonham ha trattato il suo sistema nervoso. Non è affatto vero. Ha! Reperto A! Ciao! Ehi, cos'è? È l'edizione dell'86 dell'Enciclopedia Mondiale, è quella con cui sono cresciuto. Enciclopedia? Oh, tu sei uno di quelli che pronunciano Enciclopedia. È un errore molto diffuso, ma se provi a cercare la pronuncia corretta all'interno di questa Enciclopedia, ti accorgerai che è una parola di origine greca che significa per la precisione e... Mi sa tanto che dovrei ripagare il danno. Ma non l'hai mai fatto. E poi ci sarebbe il reperto B. Salute alle vostre signorie, guardate che cosa ho vinto alla fiera del Medioevo! E sei responsabile dei danni che Robin ha provocato quando stavate insieme. Scusami, quali danni avrei provocato? Ah! Ricordi quando ti sei scolata a dodici birre e sei diventata ultracanadese? Stanley Cup, siamo all'incontro numero sei. I Rangers stanno per rimpiangere di aver provato a sfidare i Canucks. Ehi, ehi Robin! Sì? 20 dollari se lo lanci fuori dalla porta. Oh! Tu sei più fuori di un eschimese ubriaco alle Bermuda! Tin-dee-ho! Bella! Basta così, Robin! Dammi il bastone! Piuttosto ti faccio fettine. Una fettina qua, una fettina là. Oh, Robin, ti ho detto di darmelo. Spostati! Oh, canana! Ora basta! Come? Vuoi far finela? E io ti faccio nera! Basta! Dai, ragazze! Viva l'America! Va bene. Finitela, basta! Finitela! Ted! Ted! No! Non si interrompe mai una riscia tra ragazze! Mai!